Economia in pillole è una serie di brevi video per rileggere insieme temi di attualità attraverso la lente dell'economia. Ad esempio, perché le aziende dovrebbero preoccuparsi di essere sostenibili? Quali sono gli interessi economici che muovono le guerre? Proveremo insieme a rispondere a queste grandi domande, ma tenteremo anche di scoprire perché è così difficile trovare una PlayStation 5. E come fanno Kaby Leim e Chiara Ferragni ad avere così tanti follower? Queste sei pillole sono solo un assaggio di quello che si studia a Economia a Padova, un corso di laurea che vi offrirà strumenti di natura giuridica, manageriale e finanziaria, ovvero tutto il necessario per interpretare correttamente gli elementi della società attuale. Buongiorno a tutti, sono Alessandra Tognazzo, sono ricercatrice al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova e oggi vi parlerò di imprenditorialità nel digitale. Diventare imprenditori nel digitale sembra molto semplice. In fondo basta un computer, un buono smartphone con la connessione internet e voilà, il gioco è fatto. Ed effettivamente ci sono anche molti esempi di chi ce la fa, ma abbiamo azioni diverse, interessi diversi che attraverso la rete riescono a raggiungere il grande pubblico ed effettivamente ottengono, possiamo dire, il successo. Ma è effettivamente così tutto così semplice? Oggi cercheremo di capire cosa sta dietro al mondo dell'imprenditorialità digitale. Partiamo quindi ad analizzare le nuove generazioni. Sì, perché gli esempi di giovani che attraverso, sfruttando il mondo del digitale, ce l'hanno fatta. Questa è Samaira Meta, nata nel 2008, che prima dei dieci anni era già imprenditrice, perché Samaira si è inventata un gioco in scatola per insegnare il coding ai bambini ed ha venduto un sacco di copie nelle scuole degli Stati Uniti. Questo lo conosciamo forse un po' tutti, Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che adesso è diventato Meta, nato nel 1984. Questo è un altro esempio, Brian Cieschi, cofondatore di Airbnb, anche lui classe 1981. Ed è vero, è vero che le nuove generazioni sono, possiamo dire, molto esposte alle nuove tecnologie. La generazione alfa è quella che gli studiosi considerano nata dal 2010 in poi. Questa generazione viene anche chiamata generazione degli screenagers, digital natives o connected o wire generation. Infatti le statistiche mostrano che sono esposti alle tecnologie digitali per molte ore al giorno, ma non solo, iniziano anche ad utilizzarli molto presto nella loro vita, fin dalla prima infanzia. Allora, le nuove tecnologie possiamo dire che caratterizzano le attuali generazioni. Ma andiamo un attimo indietro nel tempo. Se guardiamo questa tabella che riporta nelle colonne le varie generazioni e nelle righe le caratteristiche, possiamo dire, di ciascuna generazione, alza all'occhio un qualcosa che è contenuto in particolare nelle ultime due righe. Infatti qui possiamo vedere che ciascuna generazione è stata caratterizzata da un cambio tecnologico, così come il cambio tecnologico ha accompagnato delle differenze nelle preferenze comunicative delle varie generazioni. Voglio dire, una volta si utilizzava il telefono fisso, piuttosto che la lettera. Poi si è iniziata ad usare l'email, l'SMS e oggi addirittura si arrivano ad avere dei device che si possono indossare. Ma non soltanto la tecnologia è cambiata e non soltanto il modo di comunicare è cambiato. Sono cambiate anche le preferenze lavorative delle varie generazioni. Sì, perché una volta si lavorava per portarsi a casa la pagnotta. Poi si è iniziato a lavorare perché si voleva contribuire alla vita di un'organizzazione. Oggi le nuove generazioni esprimono in modo chiaro la preferenza di lavorare per un purpose, cioè per un obiettivo, un obiettivo che abbia un valore sociale. Vogliono contare all'interno della società e fare la differenza. Il digitale in questo ha davvero un ruolo fondamentale, infatti ha dei grandissimi benefici. Ma d'altra parte proveremo ad analizzare e a vedere anche quali sono alcuni dei rischi legati a questo mondo. La competenza imprenditoriale è una delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate dal Consiglio europeo. E guardate, voglio leggervi la definizione. La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. Beh, non so voi cosa ne pensate, ma io la trovo una definizione bellissima. Oltre ad essere bellissima, penso anche sia molto in linea con le preferenze lavorative che esprimono le nuove generazioni e quindi possono le nuove generazioni essere così in accordo con quello che è il mondo imprenditoriale. Ma attenzione bene, perché l'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza nel 2017, in un report 2017, mette in luce alcuni problemi legati alla dipendenza dell'utilizzo di questi dispositivi. Abbiamo per esempio il vamping, la FOMO or fear of missing out, like addiction, nomofobia, narcisismo digitale, challenge social, ikikomori e NEET, cioè not engaged in education, employment o training. Beh, io non voglio stare qui a delencarveli, a darvi tutte le definizioni, però vi suggerisco un esercizio. Se non conoscete cosa vogliono dire questi termini, provate a guardare nella rete per trovare le definizioni. Perché penso sia anche questo, insomma, essere coscienti di quali possono essere dei rischi, beh, questo è molto importante. Allora, andiamo un po' a scoprire quello che è il mondo dell'imprenditorialità digitale, entriamo un po' nei dettagli. Allora, partiamo da un piccolo esercizio. Sì, perché se vi dico la parola influencer, così, di getto, senza pensarci, che cosa vi viene in mente? Facciamo un po' di brainstorming. Beh, io ho trovato questo word cloud in rete e ve l'ho messo qui a disposizione, però devo dire che secondo me mancano due parole fondamentali. E queste due parole mi sono venute in mente praticamente per prime. Uno, la parola follower. Due, la parola fiducia. Sì, perché non c'è influencer che riesca a sfondare o che riesca a diventare tale se non ha follower e se non riesce e se non sa gestire la fiducia con il proprio pubblico? Ma andiamo a vedere perché. Allora, questo è il processo che porta un social media user a diventare un vero e proprio imprenditore all'interno del mondo digitale. Beh, nella prima fase diventa un influencer e quindi crea una community di follower a un pubblico che lo segue o la segue. Diventa poi un marketer e quindi può per esempio pubblicizzare dei prodotti di aziende o dei servizi offerti da altri, ma può anche diventare effettivamente un imprenditore o un'imprenditrice. Sì, perché può ad esempio offrire dei servizi in prima persona piuttosto che dei prodotti o addirittura può lavorare con le aziende, fare un mix di questi due e co-brandizzare dei prodotti. Quindi il prodotto poi finale riporta sia il nome dell'azienda che il nome dell'influencer. Beh, gli imprenditori digitali hanno delle caratteristiche particolari che sono un po' diverse rispetto agli imprenditori in senso tradizionale. Innanzitutto perché sono dei social media user. In secondo luogo perché le loro opinioni contano. Infatti, pensate a quando scrivono delle recensioni su quello che hanno provato, beh, questo influenza le preferenze d'acquisto dei consumatori. Sono inoltre delle celebrità, ma non delle celebrità in senso tradizionale come intendavamo un po' di anni fa quelli della televisione. Sì, perché le celebrità online hanno un rapporto molto stretto con il proprio pubblico. Infatti, quando scrivono in rete il pubblico, i loro follower, danno poi dei commenti, commentano quello che è stato scritto e quindi torna loro indietro un feedback. Questa era una cosa che prima non succedeva, questo tipo di interazione non c'era. Ma andando a esplorare un po' meglio quali sono le differenze tra gli imprenditori in senso tradizionale e gli imprenditori nel mondo digitale, possiamo tirare fuori delle parole chiave. Beh, imprenditori in senso tradizionale cosa fanno? Hanno un'idea di business che risponde a dei bisogni di potenziali consumatori. Una volta che hanno auspicabilmente testato quest'idea, cercano di creare un'azienda e quindi mettono insieme risorse umane, finanziarie, materiali e poi la loro sfida è quella di renderla sostenibile nel tempo, affrontando quindi sia i cambiamenti esterni del mercato, ma anche dei cambiamenti interni e quindi ad esempio il processo di crescita, quando aumenta il numero di dipendenti. L'imprenditorialità nel digitale invece è caratterizzata dalle altre parole chiave. Innanzitutto l'imprenditore digitale lavora molto sulla reputazione e sul self branding, quindi lavorando per molto tempo tramite la rete cerca di costruire la fiducia con dei, con un pubblico, con una community, con i propri follower. E poi l'altro lavoro che svolge l'altra attività è quella di socializzare dei contenuti ed è un'attività che richiede tempo, time consuming. Ma poi l'ultima parola chiave è quella di riuscire a monetizzare questo tipo di relazione che si è creata con la rete, attraverso la rete. Allora il mio messaggio è riportato in questa citazione. Ricordatevi che sì, la rete ci sembra qualcosa di semplice, ma anche l'utilizzo dei social media e il diventare imprenditori attraverso il digitale è un gioco a medio-lungo termine. Richiede impegno, richiede tempo e richiede soprattutto il riuscire a costruire la fiducia nel pubblico che si è creato tramite la rete. Allora con questo io vi saluto e non posso che augurarvi di fare grandi imprese.